In questo video voglio mostrarti come funzionano le nostre nuovissime app per fruire i videocorsi Teacher in a Box da un tablet. Cominciamo dall'indice del corso, il modulo di consultazione delle video-lezioni. Ti basta scorrere l'elenco delle lezioni e toccare i titoli dei capitoli per vedere le lezioni contenute al suo interno. Tocca ogni singola lezione per vederne i dettagli e tocca il pulsante sul video per avviarne la riproduzione. Tutti i pannelli di Photoshop si trovano sotto il menu finestra. Con l'apposito bottone o con un semplice gesto, puoi scegliere di vedere il video a pieno schermo. Usa poi i normali controlli di playback per andare avanti, indietro, regolare il volume, ecc. Hai trovato un punto interessante nella video-lezione e desideri ricordarlo in futuro? Salva un segnalibro toccando l'apposito pulsante. A questo punto dovrai solo inserire un nome per il segnalibro e una descrizione se lo ritieni utile. Poi potrai ritrovarlo nel modulo segnalibri qui a destra, assieme ad altri segnalibri eventualmente salvati. Se ne selezioni uno, potrai vedere in quest'area i dettagli e le note. Basta toccare il video per far partire la lezione dal punto che avevi salvato. Poi, se ne hai fatti troppi, basta toccare la X per cancellarli. Un'altra funzione molto interessante è l'uso delle playlist. Si tratta di elenchi di riproduzione di più lezioni. Ti basterà fare partire la prima per vedere tutte le lezioni contenute senza interruzioni. Puoi usare quelle fatte da noi per percorsi didattici specifici, oppure puoi creare le tue personalizzate. Una volta scelta, puoi addirittura far partire la prima e metterti a lavare i piatti mentre segui le lezioni. Se invece vuoi creare una tua playlist, basta tornare all'elenco completo delle lezioni, scegliere una lezione che ti interessa e toccare il pulsante Aggiungi a playlist. Scegli se vuoi creare una playlist nuova oppure aggiungere le lezioni ad una playlist già esistente. Tieni presente che se scegli una delle nostre playlist, questa non viene modificata, ma verrà creata una nuova copia alla quale verrà aggiunta la lezione da te scelta. Un'altra cosa interessante è che puoi tenere traccia di ciò che hai già visto grazie ai quadrattini che ti indicano se hai visto la lezione completamente, se l'hai vista solo parzialmente o se invece devi ancora guardarla. Quando vorrai, potrai azzerare il percorso didattico toccando l'apposito pulsante. Sulla pulsantiera a destra trovi altre interessanti sezioni che ti mostreranno i nostri prodotti che potrai fruire sia dal tuo computer che dal tuo tablet, informazioni su chi siamo o sulle nostre app, scoprire altri nostri servizi e la comoda possibilità di contattarci per dirci il tuo parere o chiedere informazioni. In quest'altra schermata trovi un comodo promemoria di tutti i comandi dell'app ed in quest'altra un collegamento veloce al nostro feed RSS per essere sempre aggiornato sulle uscite di nuovi videocorsi o sui nostri spostamenti e altre iniziative di formazione. Infine, nella pulsantiera grigia trovi tutte le funzioni social per condividere la tua esperienza sulla nostra app con i tuoi colleghi e amici. Scarica subito da App Store uno dei nostri videocorsi gratuiti. Basta cliccare il link che trovi sotto a questo video. Il catalogo di videocorsi Teacher in a Box su App Store si arricchisce ogni mese. Torna spesso a trovarci.